Avete intenzione di giocare alcuni eroi ma non sapete da dove iniziare? Quali sono le caratteristiche che contraddistingueranno il loro stile di combattimento e come si potranno utilizzare al meglio? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. 14 giorni fa si è trattata la prima parte che ha visto alcuni campioni essere presi in esame attraverso delle guide rapide create da Joyce Enhart del canale YouTube Deck & Drunk. In descrizione, oltre al canale, vi lascerò il link al documento creato di suo pugno dove non solo troverete le suddette guide ma anche dei consigli utili su come iniziare a giocare e muovere i primi passi su Raid. In questo appuntamento invece esamineremo attraverso le rispettive schede i restanti 8 campioni, partendo da Viserai fino ad arrivare al Guardiano Hold'em. Prima di iniziare però, so che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non siete ancora iscritti. Pensate che se tutti voi vi iscriveste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 iscritti, quindi il vostro supporto è fondamentale, dateci una mano. Inoltre vi invito ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Ed ora scopriamo assieme come iniziare a vestire i panni degli eroi più caratteristici di Fab attraverso questa seconda carrellata di guide rapide. Andiamo a dargli un'occhiata. Viserai, strategia di combattimento. Diversificate ed adattatevi. Le rune chant sono dei segnalini esclusivi di Viserai che combineranno i danni arcani assieme a quelli fisici rappresentando un grosso problema per i vostri rivali. Diverse carte nel mazzo permetteranno a questo campione di generare tali token in attesa di sferrare un attacco massiccio contro l'avversario che non sempre riuscirà ad arginare il potere del rune blade quando farete partire il fendente con l'intenzione di recargli quanti più danni possibili. L'esperto consiglia. Rendere i rune chant pericolosi in simbiosi perfetta con gli attacchi provenienti dalle azioni dell'eroe rappresenterà per voi la via per potervi portare a casa l'incontro. Carte come Bloodspill Invocation rappresenteranno una grande opportunità quando la catena di combattimento giungerà al termine dato che un singolo danno potrà darvi la possibilità di generare tre rune che nei turni successivi potenzieranno un singolo colpo o vi faranno risparmiare energie in vista di strategie future pronte a mettere il vostro rivale davvero alle strette. Boltin, strategia di combattimento. Scambiate le carte che avete in mano per dettare il ritmo del gioco. L'abilità Charge di Boltin utilizzerà una qualsiasi carta dalla vostra mano per potenziare gli attacchi. Ma attenzione alle risorse che impiegherete dato che potrete usufruire di queste ultime per combinare attacchi più pericolosi da sferrare contro il vostro avversario. Spetterà solo a voi quindi decidere quando o meno far ricorso all'abilità del campione per colpire. L'esperto consiglia. Boltin sarà pratico nell'incrementare i danni nel frattempo che l'avversario preparerà le difese. Le carte che vi permetteranno di innescare l'abilità Charge come Take Flight alimenteranno quel motore che vi permetterà di attaccare più volte sia con le altre azioni in vostro possesso che con le asce corpo e mente, dando vita a catene offensive davvero micidiali. Ricordate sempre comunque però di sfruttare la carica di Boltin all'occorrenza per evitare di rimanere senza minacce concrete nelle fasi finali del match. Chain. Strategia di combattimento. Mantenete viva la vostra tattica di attacco. Gli attacchi di Chain potrebbero sembrare piuttosto deboli ma essi sono stati ideati con l'intenzione di creare combinazioni che se messe insieme potranno davvero mettere nei guai il vostro avversario. Il Soul Shackle vi esporrà alla minaccia del debito di sangue ma quest'ultimo risulterà essere piuttosto utile col passare dei turni aiutandovi nello svolgimento della vostra strategia di gioco. L'esperto consiglia. Soul Shackle potrà farvi accumulare ancora più debiti di sangue velocizzando la dinamica delle carte bandite ma al contrario di quanto possiate credere questo non rappresenterà un problema per Chain dato che diversi elementi nel deck potranno essere giocati direttamente dalla Banish Zone come la carta Rip Throw Reality. Il tempismo quindi sarà fondamentale per la vostra strategia. Cercate di concatenare gli attacchi creando più combinazioni possibili per mettere in difficoltà l'avversario evitando di rallentare la vostra offensiva. Livia strategia di combattimento. Utilizzate con saggezza il vostro cimitero. Livia alterna danni di alta e bassa entità attraverso il patto di sangue che potrebbe ritorcervisi contro se non riuscirete a pagarne il costo bandendo carte dal vostro cimitero. Tenete sempre a mente quindi di trovare un equilibrio fondamentale che vi permetterà di sconfiggere il vostro rivale prima che il patto reclami il suo prezzo. L'esperto consiglia. Non fatevi spaventare dal patto di sangue. A questa campionessa piacerà mantenere la pressione alta rimanendo discretamente aggressiva grazie ad attacchi come Dread Screamer che potrà ottenere Go Again se il suo costo verrà soddisfatto. Attenzione però, pagare il debito in modo sconsiderato cercando di appagare ogni singolo aspetto del vostro stile di combattimento non vi permetterà alla lunga di mantenere un buon numero di carte nel cimitero portandovi così inevitabilmente verso la sconfitta. Prism strategia di combattimento. La miglior difesa è l'attacco. Questa eroina non solo avrà la possibilità di infliggere un discreto danno all'avversario ma facendolo essa permetterà anche di trarne un beneficio difensivo grazie alla creazione degli Spectral Shield. Ciò renderà la vittoria tutt'altro che un'illusione. Concentrate la vostra strategia di gioco su questo binomio ottenendone la massima resa. L'esperto consiglia. Se l'attacco che sferrerete non sarà abbastanza minaccioso per impenserire l'avversario, gli attacchi con la desinenza Herald nel nome, come per l'appunto Herald of Protection, avranno interessanti effetti che se infliggeranno danni potranno fornirvi dei vantaggi enormi durante lo svolgimento della partita costringendo il rivale a giocare sulla difensiva. Briar strategia di combattimento. Adattate all'occasione i vostri attacchi. Le abilità di Briar avranno la capacità di creare le Envoyment Aura che potranno rafforzare sia il suo valore di attacco che di difesa. Non siate troppo avidi e mantenete a vostra disposizione quelle carte che potranno sfruttarne il potenziale così da mantenervi in vita in casistiche critiche o darvi la possibilità di settare tutto ciò di cui avrete bisogno per sferrare un attacco decisivo contro il vostro rivale. L'esperto consiglia. La parola chiave Fusion potrà trasformare un attacco mediocre in un colpo devastante. Carte come Bramble Spark si sposeranno perfettamente con il caso, potenziando la prossima azione che giocherete nel vostro turno aggiungendo anche al tutto dei danni arcani. Un piccolo consiglio che posso darvi sarà quello di tenere a disposizione nella mano, se necessario, tutte quelle carte con nomenclatura utile ad innescare l'abilità Fusion, così da potenziare al massimo ogni vostra singola giocata. Lexi, strategia di combattimento. Impostate il gioco e create sinergie con ciò che avrete. L'abilità di Lexi vi permetterà di inserire carte nel vostro arsenale aumentando l'aggressività del vostro gioco o controllando ciò che accadrà nel match in modo predominante. Le carte con la nomenclatura Lightning potranno aiutarvi infliggendo danni davvero considerevoli all'avversario ed in caso di un contrattacco prepotente da parte di quest'ultimo, le carte con Ice vi torneranno utili per rallentare la strategia offensiva di chi vi giocherà contro sopravvivendo per un turno in più. L'esperto consiglia. In attesa di fondere carte come Dazzling crescendo, potrete settare il vostro campo permettendovi di sferrare attacchi che genereranno turni davvero distruttivi e ciò vi permetterà di gestire il ritmo del match a vostro favore. Attenzione comunque a cosa andrete a giocare, essendo certi di poter pagare ogni singolo costo necessario per velocizzare il vostro attacco rendendolo davvero omicidiale, ripetendolo una volta ancora e ancora e ancora. Oldim, strategia di combattimento. Giocate una partita all'insegna dell'attesa. Oldim è l'unico eroe ad avere come effetto personale una Defense Reaction. Piccolo suggerimento. Utilizzate le carte con nomenclatura a ghiaccio e terra per prevenire i danni derivanti dagli attacchi avversari e attendete la vostra finestra d'opportunità per passare al contrattacco. Non abbiate assolutamente paura se uno o più dei vostri turni si concluderà con una singola carta posta nell'arsenale senza apparenti sviluppi. Sarà del tutto normale. L'esperto consiglia. Gli attacchi di Oldim avranno la capacità di infliggere un notevole quantitativo di danni come la carta Glacial Footstep, ma di contro quest'ultima richiederà un gran numero di risorse per poter essere giocata. Conservandola nell'arsenale quindi potrete utilizzarla attraverso il pagamento delle carte che avrete in mano e facendo economia degli elementi da picciare che vi serviranno per i turni successivi, il restante potrete utilizzare all'occorrenza per difendervi. Concludendo, al Guardiano Glaciale basteranno davvero pochi attacchi per riuscire a garantirsi la vittoria. Vi basterà appazientare e resistere ad ogni singolo attacco del vostro avversario prima di sferrare dei potenti colpi che lo vedranno tracollare. Diversi eroi, diversi stili di combattimento, diverse strade per arrivare alla vittoria finale. Spetterà solo a voi decidere quale tra questi campioni sarà abbastanza degno per accompagnarvi verso la gloria eterna che vi aspetterà nelle numerose arene sparse su tutta Raid. Prima di concludere ci tenevo a ringraziare ancora una volta Joy Senhart per aver collaborato alla realizzazione di questi video e per ricordarvi che la versione italiana uscirà presto. Non appena sarà disponibile, creerò una storia su Instagram, troverete il link del mio profilo in descrizione dove annuncerò il tutto. E voi, quale altri eroi vorrete vedere in una prossima pubblicazione? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.